Salve amici di Radiofonica, ci troviamo nella sala rossa del comune di Perugia dove è stata presentata la stagione 2013-2014 del Teatro Stabile dell'Umbria e del Teatro Morlacchi e siamo in compagnia dell'assessore alla cultura. Ecco, in questo momento così difficile a livello nazionale e ovviamente anche a livello comunale perché è così importante non solo ricavare dal punto di vista economico qualcosa dal teatro ma anche investire in teatro? Noi investiamo molto in teatro innanzitutto perché è una delle grandi tipicità perugine, il Teatro Stabile dell'Umbria e il Morlacchi sono in cima tutte le gradatorie nazionali per quello che riguarda il numero degli abbonati, per quello che riguarda l'incidenza degli abbonamenti sul costo complessivo dell'attività. Siamo una piccola realtà molto specializzata che ha un'età media per quello che riguarda la presenza di spettatori tra le più basse d'Italia. Questo è un elemento che ci sostiene ancora più nell'idea di far vivere questo teatro attraverso l'elargizione di importanti risorse pubbliche. Una città non può esistere senza il suo teatro, una capitale della cultura non può esistere senza il teatro, è per questo che noi riteniamo che i dati esaltanti che anche quest'oggi sono stati presentati costituiscono il coronamento di uno sforzo collettivo che Perugia tutta ha fatto. Sì esatto, è proprio questo che dicevo, il fatto che non è soltanto la Perugia degli eventi teatrali ma anche della formazione quindi si investe molto anche in formazione dal CUT al centro studi. Sì, il successo del teatro stabile dell'Umbria della stagione del Morlacchi è direttamente collegato all'attività che si è fatta di teatro nelle scuole che tuttora sosteniamo ma anche quella dell'istituzione di alta formazione tra cui il CUT ma anche quella di ricerca ovviamente che è il centro studi che oggi abbiamo intitolato al grande Sergio Ragni. E' il complesso armonico dell'attività che portiamo avanti che fa sì che il teatro sia Perugia la forma culturale più partecipata. Ecco quindi Perugia non è solo cioccolato, non è solo jazz ma è anche teatro. Grazie mille e buon lavoro.